io amico tuo amico tu mi dare due euro amico se tu mi dare due euro io farti compagnia mentre scarichi carello bello carello mi piace guardarlo mentre lo scarichi due euri ma ditesi fuora come una vampa ora sento quanto ho da lavorare per ciapparli due euri brutto fiolo di una cingalese dammi due euri ma aspetta un attimo mi mi parte conoscerti io amico tuo amico io vengo da kenia mamma di uganda babbo di marcellise no 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 te te sei il beppi da oliosi mi ricordo ben serene a scuola insieme se te è successo te sei il più bravo di tutti e più intelligente e più furbo e si dino ero il più intelligente ti ricordi bene mi sono laureato in ingegneria con 110 elode e poi però ho trovato un lavoro a 1200 euro al mese ho provato a mettermi in proprio ma equitalia mi ha perseguitato ma siccome caro dino ero il più furbo sono venuto qua fuori da questo supermercato passano 50 persone all'ora un euro di media su otto ore al giorno fai il conto ma è sta bravo mio a far di conto e quello il tuo problema dino mi preferisco fare il lavoro più dignitoso ora come ti sei ridotto a ogni modo per oggi ho finito vado a bermi un dai kiri venirei anche a me ma fra poco mi riscomenzi al turno un cantiere e poi guarda sto ebete quando il mapparcheggiare il ferrari come fonti a vergere il baule e metter gherento i fustini bello il ferrari però orca locca ah è mio il ferrari vino te lo sposto subito aspetta aspetta io amico tu amica tu bella bestia tu mi dare 2 euro io ti tenere aperto portellone dietro e con piccolo extra io ti aprire dietro tutto quello che vuoi io farei anche servizio in camera intanto tenendo 10 di euro poi vediamo se sei capace di meritarti gli altri forse hai ragione tu dino dovrei fare un lavoro più dignitoso ciao dino e lavora mi raccomando ciao 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 ciao